Da Pozzallo parte un progetto di promozione turistica attraverso il web che coinvolgerà tutta la Sicilia. La nostra isola diventa portata di click digitando SicilyTourism.net. L'ideatore del progetto è il pozzallese Calogero Castaldo. L'idea del portale SicilyTourism.net è nata perché in Sicilia ci sono pochissimi portali che promuovono la Sicilia e quindi si era resa necessaria l'opportunità per il territorio di promuovere attraverso eventi, attraverso sagre, attraverso tutto quello che fa turismo la Sicilia, ma non intesa come qualcosa da guardare entro i nostri confini. È un sito che avrà una valenza nazionale, quindi tutte quelle persone che da aosta in giù vorranno trascorrere un periodo di ferie, di vacanze non solo in estate ma per i 12 mesi dell'anno possono trovare in SicilyTourism.net una valvola di sfogo considerevole. E anche Canale 74 ha scommesso sull'ambizioso progetto. Naturalmente all'interno del sito ci sono diverse finestre, una delle quali è la web tv che realizziamo in collaborazione con Canale 74 al che mi date anche l'opportunità di ringraziare il Canale 74 che sarà visibile anche su SicilyTourism.net Il portale è stato realizzato grazie al finanziamento con il microcredito delle curie diocesane di Raguse e Noto che come ha spiegato oggi in conferenza stampa Renato Meli, direttore dell'ufficio diocesano per i problemi sociali e lavoro, ha già finanziato 50 progetti imprenditoriali, collaborazione fondamentale anche quella con ConfCommercio. La ConfCommercio ha seguito questo progetto, infatti ha seguito il tutoraggio di questo progetto, infatti è stato poi finanziato. Nasce dall'idea di un imprenditore, un web a livello di taratura nazionale che parte dal territorio di Pozzallo e che va a dare visibilità non soltanto al territorio di Pozzallo ma a tutta la Sicilia, attraverso il booking online, attraverso la promozione di pacchetti turistici e tutta una serie di iniziative che vanno a valorizzare il territorio. Grazie a tutti!